L'associazione Spazio 47 ha scelto fin dall'inizio di supportare questo progetto proprio per ampliare e aiutare l'offerta dei LIDI per le persone con disabilità. Oggi a Lido della Corina Don Bosco e a Lido Le Palme, quattro operatori per la disabilità tra mattina e pomeriggio si intervallano per offrire attività di supporto e accoglienza e fruizione del Lido per le persone che ne hanno bisogno. Oltre questo c'è un'attività di yoga inclusivo, accessibile, con l'operatrice Alice che si svolgerà due volte a settimana all'interno di entrambi i LIDI.